Si ritrova un ladro arrampicato mentre prova ad entrare in casa e gli spara. È successo stanotte intorno alle 4 in via Signorelli a Lago Patria sulla fascia costiera di Giuliano all'interno del parco del lago. Il proprietario di casa è un poliziotto, si trovava con moglie e figlio e stava dormendo quando ha sentito il suo cane abbaiare. Così, allertato dall'animale, si è affacciato dal balcone ed ha trovato un uomo con volto parzialmente coperto appeso ad una grondaia. Secondo una prima ricostruzione, il malvivente, vistosi scoperto, ha però esploso un colpo di pistola dal basso verso l'alto. Il proiettile si è conficcato nel balcone e solo per caso non ha colpito il poliziotto. Così l'agente ha preso l'arma d'ordinanza ed ha risposto al fuoco, colpendo il ladro che è caduto nel giardino della villetta. I complici sono invece fuggiti. Sono 14 anni che abito qua e non si è mai verificata una situazione del genere. Il fatto che io ho sentito per televisione che uno può reagire solamente se è di notte e non di giorno, per me è una cosa ridicola. Perché come sono venuto di notte e possono venire di giorno quando un appartamento è vuoto? Allora per me devono cambiare le leggi e per me ha fatto bene che l'ha sparata. Il ferito, un 35enne di origine albanese, residente nel Casertano, è ricoverato in ospedale e sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Giuliano, diretti dal primo dirigente Pietro Paolo Auriemma. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'alba al pronto soccorso del nosocomio Santa Maria delle Grazie, in località Laschiana, a Pozzuoli, in condizioni giudicate gravissime dei medici a causa della ferita d'arma da fuoco che gli ha fatto perdere molto sangue. Successivamente è stato trasportato al Cardarelli di Napoli e sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico per tamponare l'importante emorragia intratoracica causata dalla ferita d'arma da fuoco. Gli agenti nel giardino hanno ritrovato anche una pistola calibro 7,65 ed ora sono a caccia degli altri componenti della banda di topi d'appartamento.